Allora, signore e signori, buonasera, benvenuti alla Biblioteca Valle Aurelia, che possiamo dire dulcis in fundo, perché ci avviamo alle ultime presentazioni dei libri del Premio Biblioteche di Roma, siamo appunto in coda con gli ultimi tre, quello che presenteremo stasera senza confini con Francesca Buoniconti e vi ricordo i prossimi appuntamenti, Viola di Grado, Fuoco al Cielo e Scrivi sempre a mezzanotte. Stasera siamo particolarmente felici di avere qui con noi Francesca, perché questa biblioteca, come sapete, soprattutto le persone che la frequentano, anche se stasera vedo tanti volti nuovi, immagino dei circoli di lettura delle altre biblioteche, vi diamo il benvenuto, benvenuti a Valle Aurelia, ma come sanno i nostri amici del circolo di Valle Aurelia, Valle Aurelia è una biblioteca molto attenta ai temi scientifici e abbiamo avuto qui anche Cignini, che per tanti anni si è occupato del Museo Civico di Zoologia e abbiamo avuto degli incontri meravigliosi proprio sui temi che il libro di Francesca invece attraversa con una grandissima scrittura poetica, devo dire. Quindi veramente grazie a tutti per essere intervenuti stasera, venendo da tutta Roma praticamente con un tempo veramente non piacevole e voglio solo ringraziare Francesca, perché secondo me attraverso questo libro ci dà degli spunti non solo scientifici e naturalistici, ma degli spunti come dire anche storico-umani, perché di migrazione si parla tantissimo in questo frangente storico e forse insomma il tuo libro ci fa capire che la migrazione è un po' proprio nel DNA degli esseri viventi. Voglio infine ringraziare, e non è una formalità, Simona Cives, che conosce molto bene questa biblioteca per averla diretta e perché si fa carico di organizzare ormai da tre anni questo premio Biblioteche che è veramente così tanto successo e così tanto ardore sta suscitando nei lettori romani, proponendo veramente libri di qualità, libri che sono delle piccole chicche prodotti editoriali veramente di qualità. Grazie a tutti e buona serata. Grazie molte Rosarita, anch'io do il benvenuto ai circoli di lettura, anzi sarei molto curiosa di sapere chi abbiamo, perché vedo senz'altro Flaminia, Baccheria Nardi, Valle Aurelia naturalmente, Casa del Parco, Giordano Bruno, Franco Basaglia, Longhena, Raffaello, quindi come vedi Francesca siamo in tanti e nonostante il maltempo, tante persone dei circoli di lettura che sono in tutto, 32 al momento nelle biblioteche di Roma sono venute qui ad ascoltarti, approfitto sempre per fare un riepilogo sulle nostre attività, come vi ha già accennato Rosarita, il numero dei circoli di lettura, il fervore crescono. Abbiamo 30 circoli nelle biblioteche, 5 circoli nei bibliopoint, 2 circoli in carcere, circoli bellissimi, molto attivi, molto critici, gran lettori e con il 12 novembre, con l'ultima data del 12 novembre si conclude il ciclo di presentazioni degli autori in biblioteca. Come sapete abbiamo 6 autori per la narrativa e 6 autori per la saggistica. Terminate le presentazioni con la data del 12 novembre qui a Valle Aurelia, andremo a votare dal 13 al 18 novembre. Lo dico perché ci siete voi, ma c'è anche l'ufficio Mediateca che sta facendo le riprese, Francesca. Siamo in streaming e come dico io sempre tutto il mondo ci guarda, quindi tutti i circoli che ci stanno guardando da casa sapranno che dal 13 al 18 novembre, se non erro, ho mandato la comunicazione dei responsabili, possiamo votare. Vi saranno inviate entro il 12 novembre le schede e quindi votate con coscienza. Ovviamente io faccio il tipo per Francesca perché l'ho candidata, penso che il suo libro sia molto bello, mi piace molto questa scrittrice che è giovane e motivata, mi piace moltissimo la casa editrice e quindi spero che Francesca entri almeno nella rosa dei finalisti. E a questo proposito vi voglio anche dire che il 5 dicembre alle 12.30 ci vediamo tutti in fiera, alla piccola e media editoria, alla nuvola e in particolare alla sala luna 5 dicembre ore 12.30. Quindi io allerto già i colleghi delle biblioteche perché dovranno raccogliere le adesioni in modo che i circoli possano accedere alla sede della nuvola e partecipare al nostro incontro. A questo punto io entrerei nel pieno della presentazione del libro ma ci tengo a dire ancora una cosa, ve l'ha già accennato Rosarita. È un caso però a noi fa molto piacere che questo libro parli di migrazione come del resto anche altri titoli, non ci siamo messi d'accordo fra noi, però evidentemente è un tema molto importante questo della migrazione, molto attuale e che ci riguarda tutti. E quindi abbiamo più di un titolo, questo di Francesca, senza confini, abbiamo il libro di Colucci che è stato già presentato e abbiamo il libro di Mancuso pubblicato dalla terza, il viaggio? Anche le piante migrano, tutti gli esseri viventi migrano. Ma ora questo ce lo dirà meglio Francesca. Chi è Francesca Buoninconti? È una, come potete vedere, giovanissima studiosa, io vorrei sapere qualcosa in più del suo percorso di studi e del suo percorso professionale. Diciamo innanzitutto grazie a tutti veramente per essere venuti qui, anche nonostante l'allerta meteo, grazie a Simona dell'invito e insomma per aver scelto il mio libro e averlo candidato al premio. Io oggi faccio la giornalista scientifica e lo faccio in realtà da poco tempo, circa un anno e mezzo, però lavoro nell'ambito della divulgazione scientifica da più o meno quattro anni. Siamo stati quanti anni hai? 31. 31. Ho iniziato il mio percorso di studi studiando all'Università Scienze Naturali, quindi sicuramente ho una formazione scientifica. Durante, diciamo in realtà poco prima forse di iscrivermi all'Università, nell'estate tra l'ultimo anno di liceo e appunto il primo anno di Università, avevo già deciso di fare Scienze Naturali, però ho capito, diciamo, mi è nata questo amore, questa passione per le migrazioni. Sono andata in vacanza in Spagna con la mia famiglia e improvvisamente ero a Tarifa, un paesino sulla costa sud, proprio di fronte allo stretto di Gibilterra. Ho visto il cielo coprirsi completamente di cicogne bianche, ma erano migliaia su più strati. Così come sono comparse, dopo una decina di minuti sono andate via. Questa sorta di divisione mi è rimasta ovviamente nel cuore, quindi da lì ho deciso appunto di dedicare anche le tesi che ho fatto appunto durante l'Università alle migrazioni, in particolare alle migrazioni degli uccelli. Quindi ho intrapreso anche un percorso di studi parallelo all'ISPRA, diventando inanellatrice, cioè studiando appunto la migrazioni degli uccelli, mettendoli questi anellini alla zampa, qualche cosa l'ho raccontata anche nel libro. Dopo l'Università in realtà ho fatto un Master in divulgazione scientifica qui a Roma. In parte, diciamo, questo interesse per raccontare la scienza è sempre stato e ho detto, vabbè, per curiosità approviamo, al massimo aumenterà le mie competenze e da lì, devo dire, dal fare ricerca sono passata a scrivere e a raccontare la scienza. Questo ce lo racconti dopo, deve essere una domanda successiva, perché se no ci bruciamo tutto subito. No, no, dicevo appunto, quindi da lì sono andata a citare la scienza e poi appunto ho iniziato a lavorare come giornalista. E anche molto attiva, diciamo, sul fronte civile, poi pure di questo ci racconta un po'. Allora, io ovviamente, il mio ricordo di bambina è questo, anche perché io sono sempre vissuta a Roma, io vedevo le rondini, quindi che per noi, insomma, erano un'immagine abbastanza familiare, che tornavano qui in Italia col caldo e poi a un certo punto partivano, migravano per l'Africa, così ci raccontavano gli elementari, probabilmente è corretta. Però, insomma, io non credevo che la gran parte degli esseri viventi migrassero, non solo gli uccelli, ma tantissimi esseri viventi, tantissimi animali. È vero Francesca? Sì, come diceva qualcuno prima, adesso stanno migrando anche le piante, hanno migrato anche in passato, però ecco, abbiamo migrato anche noi esseri umani, in parte continuiamo a farlo e diciamo appunto che io nel libro ho raccontato una piccola parte di quelli che sono i casi di migratori, ho cercato di fare un po' una media tra i casi sicuramente più noti, quelli meno noti ma molto particolari, però lo spostarci, il muoverci in qualche modo è una cosa che accomuna tutti gli esseri viventi e in particolare migrare, quindi fare un viaggio di andata e uno di ritorno, diciamo, taglia trasversalmente quelli che sono tutti i film animali, quindi da invertebrati fino appunto ai vertebrati più superiori come uccelli, mammiferi, erettili, quindi sì, sono centinaia, sono miliardi e miliardi di animali che si mettono in viaggio ogni anno, pensiamo soltanto tra, diciamo, Africa e Europa, quindi nella migrazione soltanto degli uccelli, ci sono circa 5 miliardi di uccelli in movimento, quindi miliardi, sì. Ma dunque, nel tuo libro, che è un libro serissimo, pieno di informazioni, ma scritto anche benissimo, veramente si legge tutto ad un fiato questo libro, io chiaramente mi sono messa con la matita, ho preso tanti appunti, però voglio dire, si legge anche come un racconto e poi parleremo anche di questo, perché è un po' un saggio, ma anche un bellissimo racconto che parla degli animali che si spostano. Ci dici tante cose importanti. Una delle informazioni che dai è sull'origine della migrazione. Ecco, io vorrei chiederti, anche insieme ai circoli di lettura, quando e come sono nate le migrazioni? Allora, questa è la domanda delle domande, nel senso che la risposta più giusta sarebbe non lo sappiamo, la risposta scientificamente corretta, però ovviamente i bravi scienziati delle domande se le sono fatte hanno anche cercato delle risposte. C'era per esempio Archicar, diciamo che ha studiato a lungo l'immigrazione delle tartarughe marine, in particolare quelle delle tartarughe verdi che arrivano a nidificare sull'isola di Ascensione, quindi esattamente al centro tra Sud America e Africa, nell'Atlantico Meridionale, e aveva ipotizzato che queste immigrazioni fossero nate quando in realtà sono nate anche le tartarughe verdi, che quindi tutte le tartarughe verdi andavano a riprodursi lì. In realtà questa ipotesi non è stata verificata, anche perché le tartarughe verdi oggi sono comunque una specie cosmopolita, cioè diffusa un po' in tutto il mondo, e non tutte le tartarughe verdi ovviamente nidificano all'isola di Ascensione, soltanto quelle brasiliane. Oppure ci sono anche studi ovviamente sugli uccelli, e anche lì si è ipotizzato dal periodo glaciale, c'erano delle popolazioni istanziali nelle nostre zone, quindi diciamo zone delle nostre latitudini, con l'avanzata dei ghiacci durante il periodo glaciale, sarebbero scesi quindi verso l'equatore e poi generazioni dopo generazione sarebbero man mano risaliti e riconquistando terreno. In realtà quello che possiamo dire è che più o meno sono così da circa 12.000 anni, 10.000 anni, quindi dopo appunto l'ultima glaciazione, dopo il Wurm III. Ma sono ipotesi. Sono ipotesi naturalmente, hai citato le tartarughe verdi, che però non sono le caretta caretta, sono altre. Io sono rimasta molto affascinata, anche perché ho avuto la fortuna di vedere una tartaruga caretta caretta e anche i nidi da tartaruga, una volta in Grecia e un'altra volta a Lampedusa, perché poi non è una cosa frequentissima. Sono rimasta affascinata dalla storia di queste tartarughe, da come nidificano, ve lo ricordate? E anche un po' dalla storia di queste uova, da come vengono deposte, da come ce le racconti? Ma sì, io nel libro ho raccontato in particolar modo quella che è la vita delle carette caretta che nidificano in Florida. Considerate che in Florida c'è la maggior parte, la popolazione più grande al mondo di tartarughe marine, ci sono tra i 70 e i 90 mila nidi soltanto su quelle spiagge lì. E sono tartarughe che nell'arco dei loro primi anni di vita compiono una migrazione intorno a tutto l'Atlantico, dall'Atlantico settentrionale, fanno una migrazione di circa 16 mila chilometri, quindi partono, che sono circa grandi 5 centimetri, seguendo anche la corrente del Golfo, ma fondamentalmente anche orientandosi grazie al campo magnetico, visto che riescono appunto a leggere le linee del campo magnetico, arrivano in Europa, ridiscendono poi verso l'Africa, infine ritornano quando ormai hanno almeno una decina d'anni e se non di più di nuovo a nidificare. Come fanno? Come fanno? Fanno, diciamo, poverine, insomma, appena nascono fanno tre operazioni difficilissime. È anche una storia di abbandono, quella della tartaruga? Scusa Francesca. È una storia di abbandono in parte. Noi consideriamo che, e questo vale un po' per tutti gli animali, noi abbiamo sempre questo concetto che è nostro, diciamo, umano, delle cure parentali, cioè noi facciamo i figli e ce ne prendiamo cura anche fino ai 40 anni ed è così. Però per la maggior parte degli animali non funziona così. Questo non vuol dire che non abbiano delle cure parentali. Cioè, quando la tartaruga torna alla spiaggia in cui è nata per depurre le uova, non è che ci torna perché ha nostalgia di casa. È una cura parentale, nel senso che lei, qual è la miglior garanzia che può offrire alla sua prole? Quella di portarli e farli nascere nella spiaggia in cui è nata lei, perché se lei è diventata adulta, e ricordiamo che purtroppo, diciamo, su mille uova deposte, come diceva la canzone, uno su mille ce la fa, una tartaruga diventa adulta su mille uova. Sì, diciamo, vanno in parte ovviamente una mortalità naturale, altre volte no. Dicevamo appunto la miglior cura parentale, la miglior chance che una madre tartaruga può offrire alla sua prole è quella di portarli sulla spiaggia in cui è nata, per una serie di valori. Ci parli di questo concetto del homing, no? Sì, del tornare a casa. Si ricordano che hanno studiato, hanno preso punti, si sono preparate già le signore con le domande, perché abbiamo anche alcuni signori che certamente interverranno. E va bene. Ma io forse ricordo male, cioè la tartaruga, la mamma, che fa? Ritorna nel posto in cui è nata, se lo ricorda perfettamente, come dici tu, ci torna perché sa che è il posto più sicuro in cui far nascere. Ma poi va via. Poi va via. Sì, dopo queste uova che sono come palline di ping pong, mi è rimasta molto impressa. Queste uova morbide, morbide. Sì, non sono come le uova degli uccelli, non hanno il guscio rigido. Queste uova sono sotto la salle, l'ho visto il nido, poi c'è il bastoncino, quando ci sono i parchi e i nidi sono protetti, eccetera. Poi la tartaruga, la mamma, se ne va e non torna mai più. No. E questi poverini vengono sotto la sabbia ad affettare il loro destino. Sì, rimangono lì. E che succede? Allora, le uova nel frattempo vengono incubate, diciamo uno dei motivi è anche perché su quella spiaggia c'è una temperatura idonea a far nascere diciamo un 50% di maschi e un 50% di femmine, auspicabilmente. Auspicabilmente, poi anche di questo. Sì. Però appunto, diciamo, i genitori vanno via, nel frattempo le uova vengono incubate e quando nascono i tartarughini, in realtà, diciamo, proprio alla nascita devono fare tre operazioni che secondo me sono difficilissimi. La prima è che devono capire dov'è il mare. Come lo capiscono? Lo capiscono un po' in base anche all'inclinazione della sabbia e in parte anche grazie all'illuminazione. Quindi di solito nascono di notte con il riflesso della luna sull'acqua. E le stelle anche un po'. Sì, anche. Diciamo, il riflesso però è quello che li guida al mare. Tant'è vero che spesso se abbiamo un lungomare dietro molto illuminato si girano e non arrivano al mare ma rischiano di attraversare le strade. Tu stessa dici che l'inquinamento luminoso è uno dei principali ostacoli alla migrazione degli animali purtroppo. Sì, in molti casi sì. Quindi questo. Devono trovare il mare? Devono scappare ai predatori e soprattutto devono in pochissimo tempo memorizzare le coordinate di casa. Perché è lì che dopo dovranno tornare loro, generazione dopo generazione. E, diciamo, è un meccanismo innato che si chiama imprinting. Lo studiava Conrad Lorenz, che ha scritto molti più libri. Esatto. E, diciamo, Luca Martina aveva un imprinting visivo. Cioè, lei ha visto per la prima volta Lorenz e ha identificato quella figura come sua mamma. Loro hanno un imprinting magnetico. qualcosa che, diciamo, noi non possiamo capire bene perché i nostri sensi non arrivano fino a questo punto. Lo possiamo capire meglio con un'immagine. Però il meccanismo è lo stesso. C'è un apprendimento irreversibile che avviene soltanto nei primi istanti, diciamo, per alcuni può essere giorni. Ma, insomma, siamo lì nel primo periodo di vita. Ed è irreversibile, quindi dura tutta la vita. Certo. E poi devono anche imparare a nuotare. Perché l'acqua la devono tagliare? Certo. Devono poi dopo prendere il largo. Diciamo, una volta fatte queste tre operazioni, c'è la quarta. Devono appunto prendere il largo e quindi non essere riportate in riva. E lì, in realtà, anche, diciamo, più o meno noi facciamo anche la stessa cosa. Cioè, immagino che forse tanti di voi sono andati a mare. Nel momento in cui noi passeggiamo, andiamo verso il largo, magari se non tocchiamo, l'onda che cosa fa? Ci prende di petto, ci sposta all'indietro facendosi salire un po' e poi ci ributta giù. Quindi, in questo senso, noi sappiamo che se la nostra prima salita è verso dietro, l'onda ci sta spingendo indietro e quindi stiamo andando verso il largo. Se invece io l'onda ce l'ho di spalle, mi spinge salendo in avanti. Ed è esattamente lo stesso meccanismo. Cioè, loro, grazie a, diciamo, appunto al moto ondoso, riescono ad orientarsi. Ci sono anche dei video, ma li trovate facilmente in rete, in cui si vedono magari tartarughe che stanno notando, sempre tartarughini piccoli, notano di lato, beccano magari l'onda sul fianco e si girano automaticamente. Capiscono qual è il verso del moto ondoso e dove devono andare, proprio grazie, diciamo, alla spinta che ricevono dall'onda. Molto interessante. Altra domandona. Allora, abbiamo parlato della luna, le costellazioni, però emerge da questo libro il fatto che gli animali hanno tanti sistemi per orientarsi. Quali sono? Allora, ovviamente chi migra di giorno sa che sicuramente avrà una bustola solare, quindi si regola con l'arco apparente che disegna il sole nel cielo. Viceversa, chi migra di notte con le stelle, ma abbiamo poi anche appunto bustole magnetiche, come nel caso delle tartarughe marine. Abbiamo la luce polarizzata, che serve per esempio anche agli uccelli e a tanti altri animali, anche per esempio ai pipistrelli, a prendere la direzione giusta. Io non l'ho capita, perché è la spiegazione sulla luce polarizzata? Allora, noi la luce polarizzata non la vediamo, cioè noi sappiamo che il fascio di luce ha, diciamo, infinite possibilità, infiniti raggi, la luce polarizzata invece no, cioè è un unico, come se fosse diciamo un unico raggio, ok? In base al, diciamo, è una luce che loro vedono magari al tramonto oppure all'alba, è più facile diciamo vederla e con la posizione del sole si orientano sempre verso nord o verso sud, nel caso magari, non so, migratore, migrazione primaverile degli uccelli, sanno che devono andare verso nord dall'Africa. In Europa prendono, calibrano, diciamo, meglio la direzione. Consideriamo che stiamo parlando spesso di sistemi che vengono integrati, cioè loro non si affidano mai ad un unico sistema, perché se quel sistema non funziona bene sono morti. Quindi meglio, diciamo, sempre avere più prove che mi danno una certezza, ok? E tra l'altro spesso questi sistemi cambiano. Un conto è che io sono in Sud Africa e devo capire vagamente dove è il nord perché so che devo andare a nord. Un conto è che io sono a 50 chilometri da dove devo fare il nido e mi serve capirlo insomma un attimino con un po' più di dettaglio, quindi appunto man mano che ci si avvicina al posto in cui si va a nidificare o a riprodursi in generale, entrano in gioco magari l'elemento visivo, l'elemento olfattivo. Bisogna affinare le tecniche comunque. Sì, diciamo, ci sono una serie di stimoli che poi dopo entrano in gioco, ma questo vale per tutti, cioè dai salmoni agli uccelli, anche le tartarughe marine, ai pinguini, cioè sono elementi che ricorrono. Vabbè, insomma ci sono tante storie bellissime, i salmoni, i pinguini, poi ti chiederemo dei granchi, ma anche la storia degli gnu mi è piaciuta tantissimo, eccetera, però tu sei un'inanellatrice, poi ti chiederò anche questo. Grande parte del libro è riservata alle migrazioni degli uccelli, ovviamente. Ci sono delle storie abbastanza particolari e io avrei anche delle curiosità, perché ad esempio dici che i petti rossi sono migratori parziali? Sì, diciamo, i petti rossi come tanti altri, uccelli in realtà sono migratori parziali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che parte della popolazione migra e parte no, cioè parte estanziale. E vi dirò di più, da, diciamo, non dico un anno all'altro, anche se in alcuni casi potrebbe anche essere così, ma diciamo in un certo arco di tempo gli estanziali potrebbero iniziare a migrare e viceversa. Questo diciamo in un libro che è il Bertold, si diceva appunto che la migrazione parziale è un po' come una piattaforma girevole, è una gira alla ruota. A seconda delle condizioni ambientali o climatiche, anche magari di cibo, ci sono alcune specie che girano questa ruota genetica, diciamo così, e attivano i geni della migrazione e migrano. Ed è quello che però è successo a tantissime specie, pensiamo i merli, erano migratori, adesso sono stanziali in tutte quante le nostre città. Le cince, per esempio, tante fanno così, magari ci sono, è una specie, tra virgolette, chiamata invasiva, nel senso che compie delle invasioni a volte se il sito che è occupato, in cui magari era stanziale, per tanto tempo, improvvisamente diventa un sito scarso di cibo, magari, o anche i crocieri fanno la stessa cosa, si spostano e compiono appunto una migrazione, in questo caso a scopo alimentare. Poi tu, insomma, parli, a proposito, non mi ricordo di quale animale, di una migrazione anche lunga, che a volte si svolge nel corso di più anni, se non sbaglio. Beh, ci sono tanti anche insetti che fanno così. Per esempio, esatto, ci sono dalle, vabbè, famosissime farfalle monarca, che diciamo, più che da un anno ad un altro, diciamo, da una generazione all'altra, quindi c'è una generazione che vive al privilegio, nel mondo degli insetti è un privilegio enorme quello di vivere sei, otto mesi, perché noi guardiamo sempre la fase finale della vita degli insetti, che è la farfalla. In realtà l'insetto nasce come uovo, come bruco, poi diventa pupa, quindi, o crisalide, come si voglia di chiamare, e poi infine diventa farfalla. Ma la farfalla, quindi l'immagine adulta, vive, al massimo un paio di settimane, di norma. Questa generazione, invece, vive otto mesi e ha però anche il dovere, diciamo, di migrare, di farsi questo viaggio di tremila chilometri verso il Messico, di riposarsi durante l'inverno, di entrare in questa diapausa, riprodursi, e poi saranno le tre generazioni, come in una staffetta, diciamo, le tre generazioni successive, quindi figli, nipoti e pronipoti, a seguire verso nord. Ma ci sono magari anche delle altre falene, le bogong che vivono in Australia, c'è una generazione che fa l'andata, e una che fa il ritorno. Quella, sì, diciamo, soprattutto per gli insetti, funziona di solito così, proprio perché hanno una vita molto più breve, mentre magari uccelli, mammiferi, fanno lo stesso individuo, fa più e più volte la stessa tratta, e lì, oltre alla genetica, poi rientra anche una, diciamo, una componente di apprendimento. Poi invece ci sono degli animali che apparentemente migrano, ma in realtà no, non migrano, ad esempio l'elefante. Sì, no, l'elefante tante volte ci è stato presentato nei documentari come un migratore, ci sono questi elefanti che migrano alla pozza d'acqua. Cioè, è vero, sicuramente è uno spostamento, però ricordiamoci, ecco, qual è la definizione di migrazione. La migrazione è uno spostamento di andata e di ritorno, ma tra due siti in cui si svolgono funzioni completamente diverse, in due siti che sono separati. Quindi se io mi muovo sempre nell'arco della mia vita, da qui a lì, ma fondamentalmente mangio e bevo qui e mangio e bevo lì e mi riproduco qui e mi riproduco lì, non sono un migratore. Quello è semplicemente il mio areale. Infatti hanno visto, mi sembra, c'era uno studio su tipo 400 e passa elefanti, in cui tipo in quattro anni soltanto 25 si sono, diciamo, hanno, si sono spostati così tanto per abbeverarsi, tanto da avere due areali separati. E non è definibile in questo modo. Oppure, per esempio, era successo la stessa cosa per le mante giganti. Le mante giganti anche sono... Che non sono cattive. No, no. Sono animali filtratori pacificissimi. No. Però appunto hanno un areale, diciamo, molto vasto, si muovono in circa 200 chilometri, 220 chilometri, ma fanno tutto lì. Invece i poveri gnu migrano. I poveri gnu migrano, poverini davvero, perché devono anche affrontare, diciamo, le vene dell'inferno. Dice la nostra signora di Vacheria Nardi che fanno dei bei viaggi. Sì, in realtà, ecco, gli gnu, per esempio, fanno un viaggio che in realtà in linea d'aria sono circa 300 chilometri, però loro ne percorrono 1.500. Diciamo, si complicano un po' la vita. Sono così. Fanno, tra l'altro, un giro bellissimo perché passano per le gole di Old Dubai, insomma, proprio per la culla, quella che è stata la culla dell'umanità. Esatto. Però in realtà loro, ecco, lo fanno perché lì c'è una stagionalità talmente forte tra la stagione secca e la stagione umida, quindi quella delle piogge, che nella stagione secca non consentirebbe di vivere dove stavano prima. Quindi loro che cosa fanno? Si spostano dal parco del Serengeti, dove appunto partoriscono durante la stagione umida, in cui c'è addirittura un lago e una frateria che improvvisamente scompare con le stagioni secche. Quindi loro sono costretti a spostarsi verso nord, verso il Masai Mara, quindi un altro parco appunto che è in Kenya, e attraversare ben due fiumi. Nell'attraversare questi due fiumi, poverini incontrano sia gli ipopotami, che di solito uno diceva, beh, gli ipopotami sono pacifici, no? No, gli animali cattivissimi, poi se lo sappiamo. Sono tra gli animali più letali, diciamo. Sì. Che è un animale in una tuta seroccia. Esatto, sono molto, molto, molto territoriali. E poi ovviamente i coccodrilli. Però ecco, appunto, io nel raccontare la migrazione degli gnu, poi ho fatto questo paragone un po', diciamo, con il cerchio della vita. Non soltanto perché la migrazione degli gnu alla fine descrive un cerchio che varia, diciamo, come percorso, non è proprio fisso. Varia appunto in funzione dell'arrivo della stagione delle piogge, quindi sia come tempisti, sia proprio come percorso. E poi perché questa, diciamo, migrazione in realtà dà vita proprio a quell'ambiente. Nel senso che stesso gli gnu, mangiando l'erba e con i loro escrementi, e con il loro calpestio, stiamo parlando di 4 milioni di zoccoli che calpestano e rimestano il terreno, ovviamente concimano tutta l'aria. E nell'attraversare questi fiumi, molti di loro, purtroppo o per fortuna degli altri, muoiono e danno, diciamo, da vivere e da mangiare a tutto il fiume. Questo è interessantissimo, perché questo bovero animale poi diventa un alimento per tantissimi animali diversi. Sì, dagli stessi coccodrilli, insomma, a tantissimi, quelli che sono gli uccelli chiamati spazzini, quindi avvoltoi, grifoni, ma anche un parente delle cicogne, che è il marabù, diciamo, anche lui è un uccello spazzino, nonostante noi le cicogne tendiamo sempre a pensarle, diciamo, nella versione romantica. Ovviamente pesci, dai pesci-gatto-ciclidi che sono lì, e arrivano poi dopo appunto fino al fiume, fino appunto alle ossa, una volta che appunto tutti hanno rosicchiato quello che c'è da rosicchiare, le ossa poi funzionano come fertilizzante, lento rilascio di azoto e fosforo, eccetera. Insomma, quindi anche lì alimentano, anche proprio se vogliamo, il sistema ittico, la pesca che si fa lì nel lago. Benissimo, torniamo al mondo degli uccelli. Io sono rimasta molto affascinata, certamente anche il circo di direttura, dalla vicenda del cuculo fratricida, è vero? È molto divertente, raccontiamo anche questa storia. Sì, allora, diciamo, i cuculi non sono proprio belle persone, ma guardiamo questo presupposto qui. Diciamo, che cosa fanno? In realtà, vabbè, dopo che il maschio e la femmina si accoppiano, la femmina di cuculo depone le uova, non costruisce il nido, quindi depone l'uovo nel nido di un malcapitato, altra specie. Mettiamo una cannaiola. Che cosa fa, però? La femmina prima sposta, diciamo, e butta via un uovo nel nido della cannaiola, quindi è lì, vigila, diciamo, appena vede che la cannaiola ha deposto le uova, uno lo prende e lo butta via e al posto suo ci mette, ovviamente, quello del cuculo. Questo perché lo fa? Perché, ovviamente, la cannaiola non è stupida, quindi se vede un uovo in più dice, qui c'è qualcosa che non va, cioè le sa, le conosce a memoria. Esatto. Invece, in questo modo, diciamo, l'inganno è, tra virgolette, perfetto. È perfetto anche perché, diciamo, la femmina di cuculo depone un uovo di un colore molto, molto simile. Però la storia non finisce qui. No, perché ovviamente... È una storia ferata. Esatto. Perché una volta che il cuculo è nato, nasce, diciamo, si sviluppa un po' prima, tra l'altro si pensa anche, appunto, che si è visto da alcuni studi, che le femmine di cuculo in realtà incubano per un po' di tempo l'uovo, prima di deporlo, in modo tale che il cuculo nasca prima degli altri fratellastri, diciamo così, e a quel punto il cuculo fratricida fa fuori tutti gli altri fratelli. Cioè, se li carica proprio sulla schiena, e uno per uno li butta giù. Non vuole sapere niente. E a quel punto, diciamo, i genitori si ritrovano a nutrire un figliastro, diciamo, non voluto, e, diciamo, lui ha tutte le attenzioni per sé. Si trovano queste scene incredibili in cui c'è magari un uccellino di una decina di grammi che nutre un cuculo di 100 grammi. Certo, ma il libro è pieno di tante storie curiose e abbastanza incredibili. E poi vengono anche sfatati molti miti. Noi tutti sappiamo, ad esempio, che i pipistrelli sono ciechi. Ma i pipistrelli non sono ciechi. Assolutamente no, ci vedono bene. Magari, ecco, non come noi, però ci vedono bene. Semplicemente hanno un sesto senso in più. Loro ecolocalizzano per vedere. Cioè, che cosa fanno? Emettono degli ultrasuoni dalla laringe, li producono ovviamente con la laringe, poi li emettono attraverso il naso o la bocca. E poi, diciamo, una volta che l'ultrasono ha raggiunto un ostacolo, torna indietro e loro con le orecchie calcolano questa distanza e capiscono dov'è l'ostacolo. Ma non è che capiscono solo dov'è l'ostacolo. Lo disegnano, come se lo disegnassero. Io magari, diciamo, c'è un paragone che si può fare. Immaginate di essere al buio, completamente, e di avere una torcia. Questa torcia, però, non la potete tenere sempre accesa. La potete accendere per un secondo, per un massimo un secondo, e poi spegnerla. Se voi state camminando, vi basterà magari fare un secondo accesa, un secondo spenta, un secondo accesa, un secondo spenta. Se iniziate a correre, quindi andate più veloce, è ovvio che dovrete accenderla e spegnerla più velocemente possibile per vedere dove siete arrivati. Ed è un po' la stessa cosa, cioè il loro funziona ad impulsi. Quindi se sono in una zona ampia e senza ostacoli, emettono un ultrasuono, diciamo, ogni tot. Ma a mano che magari si avvicinano ad un ostacolo o a una preda, anche nei grafici che utilizzano appunto i chirotterologi, quindi chi studia i pipistrelli, si vede che lanciano appunto degli ultrasuoni a frequenze molto maggiori, quindi diciamo a un ritmo molto superiore, proprio per capire che forma ha e dov'è la falena che devono cacciare. Però ci vedono, assolutamente. Le storie sono Dante, ti chiedo di parlarci ancora di una storia. che è quella dei granchi rossi. Allora sì, esatto. Questo è uno, diciamo, dei casi forse meno famosi, perché appunto tutti magari abbiamo visto un documentario sulle balene piuttosto che sull'igno, ma magari i granchi rossi dell'isola di Natale sono un po' sconosciuti. Ma come mai si chiama Isola di Natale? Perché è stata scoperta il 25 dicembre del 1643 da alcuni marinai inglesi, quindi per questo si chiama così. E questi granchi giustamente si sono adeguati al tema, non scherzo, e sono rossi. Sono granchi natalizi. Esatto. E tra l'altro migrano in procinto, diciamo, del Natale. Esatto. Questi granchi in realtà sono, diciamo, dei granchi un po' particolari, perché noi siamo abituati a pensare al grancho che vive a mare, loro invece no. Vivono sulla terraferma, in particolare nella foresta tropicale che ricopre l'isola, e svolgono un ruolo importantissimo, perché sono i giardinieri di questa foresta. C'è proprio come se la coltivassero, dal concime fino appunto allo spostamento dei semi. Però sono granchi, e quindi per riprodursi devono andare a depurre le uova in acqua. Quindi, verso fine novembre, inizio dicembre, anche loro con la stagione delle piogge, questo perché? Perché se no si surrescaldano troppo, morirebbero di caldo, appunto si dirigono verso il mare. Scusami se ti interrompo, sono anche granchi molto furbi, perché quando, durante il percorso, se sentono troppo caldo, si vanno a riparare. Certo, vabbè, sì. Strategia di sopravvivenza minima. Caldo. Cerco di mettermi all'ombra, o di fermarmi, sì. Però appunto, nella foresta tropicale, ovviamente, diciamo, c'è abbastanza umidità per consentirli, diciamo, di vivere in modo tranquillo. Nel momento in cui devono fare uno sforzo grande, quindi percorrere qualche, insomma, centinaia di chilometri per arrivare, anche al giorno, per arrivare a mare, è ovvio che, insomma, iniziano a, ad avere più caldo, a surriscaldarsi. Quindi migrano la mattina presto, la notte, e, appunto, in concomitanza della, quindi nelle urepie fresche, e in concomitanza della stagione delle piogge. Tra l'altro, si regolano anche con la bassa e l'alta marea, proprio per, diciamo, tra virgolette, far avvicinare il mare. E a volte, per esempio, cosa succede? Che se arrivano un po' prima, le femmine si intannano, se sono lì in spiaggia, diciamo, appunto, per coprirsi un po', avere meno caldo, aspettano l'alta marea e poi, appunto, vanno a depurre le uova. E, infine, diciamo, tornano indietro e torneranno dopo anche, diciamo, i sopravvissuti delle uova schiuse, le megalope. Tra l'altro, fanno ancora più impressione, perché voi considerate che su quest'isola ci sono circa 40 milioni di granchi e 1.500 abitanti, quindi... Non toghi granchi. No, però, leggermente in maggioranza rispetto a... Diciamo, questo poi lo racconto anche nel libro, purtroppo c'è una specie aliena invasiva che gli sta, diciamo, sta creando non pochi problemi, sono circa 10-15 milioni granchi morti a causa di questa piccola formica che si chiama formica pazza gialla. È ovviamente mano umana e quindi, diciamo, la colpa è nostra. Ecco. La colpa sicuramente, come sempre, è nostra. Dunque, Francesca, tu sei un'inanillatrice, ci racconti anche come nasce questa storia dell'inanellamento, che è una parola difficilissima, non riesco mai a dirla, scusate. Quindi io vorrei un po' di ragguagli sull'origine di questa pratica e vorrei sapere anche che cosa significa proprio nella vita, in concreto, fare questo lavoro. Ok. Ma allora, diciamo che tu prima appunto accennavi al fatto che nel libro una buona parte è riservata agli uccelli, questo perché sono sicuramente le migrazioni più studiate e nel passato, tipo Aristotele, insomma, pensavo a una serie di bagianate, se vogliamo dire la verità. È sicuramente quella più... Ne ha dette tante, Aristotele. Ne ha dette tante, sì, dalle rondine che si trasformavano, vedi, tu almeno sapevi che andavano in Africa, lui no. Pensavo si trasformassero in rane oppure, insomma, che gli uccelli perdessero il piumaggio in autunno, si diventassero tipo dei rami secchi e poi, diciamo, rimettessero il piumaggio in primavera. Insomma, c'erano delle teorie abbastanza fantasiose. Se abbiamo scoperto, effettivamente, dove vanno gli uccelli quando migrano, è grazie all'inanellamento. O meglio, grazie a questo signore, che era... era, sì, Hans Christian Mortensen, che era un preside di una cittadina che si chiama Viborg, in Danimarca. Però lui, insomma, nella sua vita da preside aveva questo hobby. In giardino guardava sempre, faceva beard watching, come diremmo oggi, cioè, guardava gli uccelli del suo giardino. E a un certo punto ha riuscito a chiedersi se ogni anno, all'inverno, quelli che vedeva erano sempre gli stessi o no. Come farlo a capire? Pensa e ripensa, si era ricordato di questo caso, di quest'oca lombardella che era nata in Danimarca ed era stata sparata in Polonia, mi sembra. Aveva una fascetta al collo di ottone e lui però, diciamo, non aveva delle oche in giardino, aveva che cosa? Degli storni, quindi degli uccellini, quelli che vediamo anche qui a Roma. C'è qualcuno che alza gli occhi al cielo perché iniziano a creare qualche problema. Mette questo anellino sulla giardina. Le ha dovuti forgiare proprio lui, cioè noi in anellatori, diciamo, io adesso non lo faccio più tanto, però gli anellatori di oggi sono molto fortunati perché hanno un regolamento specifico degli anni di pratica da fare, ovviamente per minimizzare lo stress degli uccelli e soprattutto hanno degli anellini già belli a misura e incisi. Invece lui se li è dovuti scolpire diciamo in qualche modo da solo. E quindi erano anche degli anelli molto rudimentali. Sì, molto rudimentali, però appunto la potenza di questo metodo è che poi lui ha affinato le tecniche dagli storni e passato alle anatre in particolare all'alzavole che erano specie cacciabili perché il problema era capire, diciamo, chi poteva poi dopo rileggere quell'anello quindi capire dove era finito quell'animale in anellato e quando insomma si è capita la potenzialità di questo metodo in realtà all'inizio del Novecento si è diffuso un po' ovunque ogni stato adottato il suo regolamento il suo codice alfanumerico univoco per tutti quanti gli anelli e quindi diciamo oggi soltanto in Europa sono stati inanellati almeno 15 milioni di uccelli. Però Mortensen ahimè i suoi uccelli inanellati non li ha mai più visti ritornare mi pare o sbaglio? No, no qualcuno l'ha ricatturato c'erano stati un paio di storni e poi qualche alzavola non l'avrà vista viva quella sicuramente però li ha visti sì, sì, sì no, no diciamo sono stati qualche risultato da avuto assolutamente no altrimenti non si sarebbe diffuso come metodo ci ha provato prima con gli storni ha visto che su 165 storni anellati due ne erano stati ritrovati ha detto vabbè proviamo con qualcosa all'epoca non erano così diffusi proviamo con qualcosa di cui sono sicuro della ricattura e quindi uccelli sparati e invece chi in anelli piccoli passi riformi quindi diciamo tutti quelli che passano nel Mediterraneo piccole isole insomma in primavera oppure sulle Alpi a ritorno e ho iniziato non mi ricordo neanche più nel 2012 credo e da qualche anno in realtà diciamo accompagno amici in anellatori più che altro perché è ovviamente un'attività che ha bisogno di tanto studio di tanta pratica io ormai faccio la giornalista scientifica quindi lo faccio molto di meno diciamo prima passavo mesi interi sulle isole proprio a studiare la migrazione c'è una tecnica poi per inserire questo anello il tutto assolutamente va svolto con tempi rapidissimi sì 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 diciamo ci sono ovviamente delle reti apposite che vengono montate in un certo modo sono reti che assolutamente non arrecano nessun tipo di danno all'animale quando vi entra tanto che se diciamo si agitano molto possono uscire tranquillamente non hanno una penna torta il giro alle reti si fa dall'alba fino al tramonto ogni ora e poi appunto sì ci sono una serie di strumenti per applicare in quei pochissimi secondi in cui viene catturato l'animale viene portato al tavolo la cattura e la posa di questo anellino succedono una serie di cose sì vabbè devi metterlo nel sacchetto portarlo al tavolo dell'anellamento aprirlo vedere che specie quindi scegliere l'anello giusto in base alla specie ovviamente c'è un'altra persona che riporta tutti i dati su una scheda vengono effettuate anche delle misurazioni sì assolutamente si misurano diciamo un po' come una visita magari dal medico dal pediatra non so per un bambino in cui si misura magari l'altezza ecco noi misuriamo anche il peso la lunghezza di alcune penne delle ali del becco del tarso e poi verificiamo lo stato di salute quindi quanto muscolo ha e quanto diciamo grasso ha accumulato una cosa carina è che diciamo la pelle dei piccoli pasti di forme in particolare è talmente sottile che è trasparente quindi soffiando noi soffiamo diciamo tra li mettiamo pancia all'aria poverini e li soffiamo sulla pancia e scoprendo appunto le penne si vede appunto questa pelle trasparente quindi tu vedi proprio i due pettorali quanto sono gonfi c'è una scala ovviamente che si impara per dare appunto qual è il valore e la stessa cosa per il grasso quindi c'è questo accumulo giallastro sui fianchi sui sottogola sulla pancia appunto e anche lì valutiamo qual è lo stato di salute in realtà e tu ad occhio quanti passeriformi pensi di avere inanellato ad oggi? non lo so non te lo sei mai domandato? no capita magari innanzitutto diciamo sulle isole poi e in generale nei campi di allenamento non si è da soli non si è da soli perché ci sono cioè è impossibile ci sono magari diverse centinaia di metri di rete si deve fare il giro ogni ora quindi sicuramente non si è da soli però può capitare in un giorno magari sulle isole quando c'è magari vento da sud quindi in primavera di prendere anche un migliaio un migliaio e mezzo di uccelli al giorno però magari ecco si è in tre in quattro anellatori poi a volte c'è chi l'anella a volte dici ok vabbè l'anella tu scrivo io anche per darsi un po' un cambio un turno quindi fare una stima è difficile ma io diciamo con le storie mi fermerei perché poi insomma il libro l'abbiamo letto tutti e chi non l'ha letto lo leggerà però volevo un po' condividere una riflessione anche con i nostri circoli di lettura perché noi di libri ne leggiamo tanti leggiamo tanta saggistica io noto noto in questo libro che manca la bibliografia manca l'indice dei nomi come ha già detto la responsabile della biblioteca la storia è raccontata in maniera molto poetica quindi la mia impressione è che sì siamo nella saggistica ma questo vale pure per altri libri che abbiamo candidato al premio ecco fanno sempre il libro di Mancuso insomma somiglia tanto io ho l'impressione di come dire ho acquisito tantissime informazioni interessanti ma la mia impressione è quella anche di aver letto un romanzo ma è vero chiedo a te ma chiedo anche ai circoli che forse i confini tra saggistica e narrativa stanno un po' sfumando allora per quanto riguarda la mia esperienza che poi appunto è la primissima diciamo da lettrice sicuramente sì da autrice diciamo per quanto riguarda la bibliografia o l'indice dei nomi io mi sono attenuta a quelle che sono le regole editoriali quindi non mi hanno chiesto una bibliografia ma quello che c'era di bibliografia è stato inserito in nota idem per l'indice io mi sono molto meravigliata devo dire la verità perché alla fine del libro scusi se c'era una notte non c'era bisogno della bibliografia a capire come io è un punto di vista editoriale sì no no grazie per la precisazione però generalmente invece io in un saggio mi vado subito a controllare la bibliografia anche perché immagino che tu abbia letto e consultato tantissimi libri sì libri tanti studi scientifici hanno comunque il risultato di tantissimo studio e quindi noto un cambiamento che non è solo non lo rileviamo solo nel libro di Francesca Buoninconti e nella politica editoriale di codice perché questa è una scelta sì 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 io ho eseguito non l'avevo scelta pubblicare un libro senza indice dei nomi e senza bibliografia sì sì diciamo questo diciamo per quanto riguarda ovviamente è stata tutta la bibliografia cioè nel senso che c'è in nota e diciamo io mi sarei sentita mutilata tra virgolette se non ci fosse stata neanche la nota ecco quello sì perché è ovvio che non sono delle affermazioni mie e in generale il ruolo del divulgatore scientifico non è quello di raccontare delle proprie opinioni ma di raccontare diciamo delle scoperte scientifiche delle verità scientifiche e senza le prove non ci sono certezze scientifiche diciamo per quanto riguarda invece diciamo la tra virgolette lo stile di scrittura romanzato in qualche modo a me è venuto un po' naturale un po' perché parliamo di viaggi parliamo di storie spesso di singoli individui iranellati marcati che siano balene che siano uccelli che siano pinguini eccetera e in parte perché tante volte come è stato per esempio per Hans Christian Mortensen quindi l'inanellamento oppure per altri esperimenti che sono stati fatti magari sull'orientamento degli uccelli o anche delle tartarughe in realtà raccontiamo quello che è il percorso di uno scienziato e quindi anche lì c'è diciamo una parte che è una storia che va raccontata e quindi in qualche modo è forse romanzata quello sì quando hai scritto questo libro lo hai fatto pensando a chi? quali sono chi sono i destinatari di questo libro? allora i destinatari sono diciamo tutti quelli che pensano o dicono di amare la natura questo sicuramente da un'età insomma da un liceo in su ecco non è un libro che io da autrice consiglierei ai ragazzini insomma troppo piccoli perché magari sono veramente tante le informazioni però ho cercato di scriverlo in modo tale che fosse facilmente comprensibile anche a chi non ha assolutamente base scientifica quindi chi non ha fatto neanche un liceo scientifico o degli studi scientifici e che fosse appunto comunque che riuscisse ad appassionare qualcuno che è comunque magari vicino al tema ecco avere delle conoscenze in più senza quella pesantezza diciamo di dire oddio dieci grafici otto tabelle che a volte a qualcuno spaventa soprattutto magari a chi non ha una formazione scientifica quello sì infatti il libro è veramente godibilissimo e quindi ti ringraziamo molto grazie abbiamo imparato tantissimo da questo libro e ci siamo goduti tante belle storie che certamente ci arricchiscono e forse ci rendono anche un po' più consapevoli di tutta una serie di problemi e ci aiuteranno come dire proprio ad avere un atteggiamento più consapevole rispetto a tanti gesti quotidiani rifletteremo di più sull'inquinamento luminoso e su tante altre cose l'ultima domanda poi lascio la parola ai circoli perché il tempo stringe io generalmente quando scelgo un libro scelgo non solo l'autore ma anche l'editore e quindi questo l'ho detto molto chiaramente a Francesca il libro è scritto molto bene il tema è bello interessantissimo mi faceva piacere valorizzare anche il lavoro di un editore quale è Codice che è un editore che lavora tantissimo proprio sulla scienza in particolare sulla divulgazione scientifica mi farebbe piacere sapere come ti sei trovata con questo editore come avete lavorato e che cosa come pensate di pubblicizzare promuovere questo libro e valorizzarlo sicuramente bene diciamo io direi anche un'altra cosa che Codice è comunque un editore che fa scouting io non ho mandato una mia proposta editoriale nel senso che l'ho mandata ma quando ormai ero già stata contattata quindi sono diciamo dietro c'è un lavoro anche di persone che leggono vanno a vedere magari anche video o articoli di giovani divulgatori e se c'è insomma qualcuno che rientra nelle loro linee editoriali magari viene chiamato quindi sicuramente a questo diciamo gli va dato credito e poi diciamo per quanto riguarda il libro ovviamente c'è stato tutto il lavoro di diciamo io l'ho scritto più o meno tutto in tre mesi compresa la revisione delle bozze che mi arrivano mentre diciamo scrivevo il resto sei stata velocissima sì però immagino che ci sia stato un grandissimo lavoro editoriale su questo libro sì sì no vabbè sicuramente insomma loro ci sono hanno corretto insomma le bozze loro ci sono sì loro assolutamente ci sono sono stati anzi veramente disponibilissimi anche il sabato e la domenica magari io mandavo mail e loro mi rispondevano cinque minuti dopo quindi su questo grande disponibilità grande professionalità e poi ovviamente c'è chi ha ridisegnato in modo diciamo comprensibile tutti i miei scarabanchi delle mappe che avrete visto nel libro e adesso sono delle cartine normali e quindi sì assolutamente insomma hanno fatto anche loro un lavoro diciamo editoriale importante poi c'è appunto tutta la distribuzione nell'ufficio stampa il titolo l'hai scelto tu? il titolo l'ho scelto io sì erano diciamo una serie di proposte e alla fine era un mix senza confini e poi il sottotitolo le straordinarie storie degli animali migratori però sì grazie Francesca io adesso grazie a voi la parola ai circoli che sicuramente hanno la loro sfinza di domande rubiamo il microfono e vi chiediamo per favore di venire qui proprio perché abbiamo la diretta streaming e vi chiediamo di esporvi col microfono prenotatevi prenotatevi alzi la mano Ghiè allora Giuseppe perfetto sì allora Giuseppe Meffe della Circolo Basaglia ecco dunque io sono rimasto molto colpito dal tuo libro e per me sono nuovi orizzonti perché non sapevo nulla non conoscevo nulla e devo dire che è stato un libro che mi ha molto incuriosito e mi ha fatto aprire una serie di riflessioni e di domande allora io volevo appunto farti questa domanda relativa che poi sta nella pagina nell'illustrazione del tuo libro e quindi parliamo diciamo degli uccelli migratori e a me colpiva molto questo discorso che dicevi sul capo branco che viene scelto dal gruppo che non è scelto che lui non si sceglie da solo e che in realtà il gruppo lo sceglie tenendo conto diciamo di quelle che sono le caratteristiche del campo magnetico ecco volevo se ci parlavi meglio di questo discorso della navigazione no? cioè di come diciamo la navigazione per gli uccelli è una una questione diciamo che attraverso l'esperienza no? si acquisisce maggiormente rispetto a quello ma in modo particolare ecco questo fenomeno di essere scelti e se il capo da questo punto di vista fa effettivamente la propria operazione no? di far seguire noi siamo abituati purtroppo magari a vedere i caccia militari che in realtà hanno preso ispirazione dagli uccelli considerate che in una formazione a V perfetta si riesce a risparmiare fino al 70% di energia ovviamente gli uccelli non hanno diciamo delle formazioni perfette perfette che cosa significa? non soltanto come forma ma anche spesso come alternanza del battito alare come velocità eccetera e magari quindi riescono a risparmiare intorno al 20% di energia però ecco chi guida ha ovviamente un ruolo strategico spesso cambia perché è un ruolo più stancante ma non ha un sassodino no quella roba per le gru no esatto non ha un sassolino per restare sempre sveglio in modo tale che se cade gli altri lo accusano però appunto era una domanda che prendeva un po' una serie di temi ecco sicuramente quello che vale è l'esperienza come diciamo ha dimostrato per esempio Perdec con gli storni nella fine degli anni 50 certo c'è una bussola innata con la quale i giovani riescono a compiere la loro migrazione senza alcun aiuto soprattutto se stiamo parlando di piccoli passeriformi ma c'è anche uno stimolo sociale uno stimolo di apprendimento per esempio per le gru o per le cicogne per chi quindi vola in stormi così grossi sicuramente molto più alto lo stimolo sociale mentre se prendiamo piccoli passeriformi ci sono piccoli passeriformi che in un gruppetto di 2-3 mai visti prima non sono fratelli non sono figli e genitori arrivano a destinazione da soli soltanto basandosi appunto sulla genetica se sono adulti quindi se hanno superato un anno di età diciamo anche in base all'esperienza che altro dire ci sono per esempio gli storni la stessa cosa gli storni diciamo che appunto maledetti che vediamo in cielo in realtà diciamo non c'è un vero e proprio capo ma diciamo l'informazione di virate o di velocità di avvicinamento di allontanamento tra gli individui in realtà viene coordinata in tempi rapidissimi c'è un'informazione che passa in un secondo in un gruppo diciamo molto ampio di storni e in realtà più che un vero e proprio capo ecco c'è un coordinamento come se fosse per cellule per nuclei di 6-7 storni quindi diciamo un'informazione passa rapidamente diciamo ai 6-7 che ci sono intorno e da quelli si diciamo si moltiplica non lo so ci sono n esempi da fare io vado avanti però non so lasciamo spazio alla seconda domanda devo fare una raccomandazione che siano che siano domande domande asciutte allora prego c'era la signora ormai c'è qualche altro che vuole fare più asciutte delle mie io scendo il passo signora Anna coraggio allora io devo fare i complimenti non solo alla scrittrice ma anche a dire la verità a tutto lo staff scientifico vero del premio biblioteche perché quest'anno ha scelto veramente dei libri soprattutto appunto quelli diciamo i saggi che di solito voglio dire non attraggono tanto il lettore perché sono più portati come me per esempio per romanzo però devo dire che questi hanno dissipato un po' il velo della mia ignoranza che ero rimasta alle rondini che migravano più o meno e tutto il resto invece delle scoperte notevolissime allora a parte voglio dire il sistema come si orientano non lo so perché io mi perderei fra qualche metro invece loro si orientano poi già spiegato come ma anche però mi pare a memoria innata come i cuculi voglio dire in fondo nessuno gliel'ha insegnato però c'è qualcosa di innato di genetico diciamo così bene e io avrei altre storie la storia delle balene per esempio ok cioè la storia il constatare che le balene cantano io non lo sapevo veramente ma anche se posso inserirmi è incredibile il fatto che consumino se non sbaglio 1800 kg di plankton al giorno cioè dei pesci enormi che possono essere lunghi fino a 33 metri è giusto ricordo bene mammiferi scusate non dovevo dire è un mammifero ho sbagliato perdonatemi che però voglio dire questi mammiferi così grandi che consumano che mangiano degli esseri minuscoli ma 1800 kg di plankton è incredibile è vero io comunque la faccio rispondere subito stavo dicendo ovviamente io sono meno interessata all'aspetto prettamente scientifico invece mi è piaciuto il discorso insomma la scoperta che le balene cantino no? poi questi hertz da 20 e 30 che per 30 poi 30 minuti e quindi che è vero tanto è vero che mi ha fatto pensare all'Ulisse dico vuoi vedere che Ulisse il racconto mitico delle sirene in realtà erano le balene che cantavano ed era attirato vabbè a parte questo riferimento le altre storie che mi sono piaciute tantissimo è quelle dei pinguini e dei rospi allora i pinguini poi lei lo racconterà meglio di me naturalmente i pinguini voglio dire i pinguini Adelia e i pinguini invece imperatore i pinguini Adelia è vero che si alternano nella cova nella cura le cose addirittura però deve aspettare anche lì e devono aspettare tanto tempo il maschio che poi voglio dire dimagrisce nell'attesa e poi c'è tutta la storia del nido del sassolino che deve essere dato in dono eccetera facciamo raccontare la storia dei sassolini che è bellissima la storia dei sassolini la facciamo raccontare a lei è logico allora stavo dicendo però lei mi interrompe e mi fa perdere filo Simona vabbè allora dicevo ritornando al discorso dei pinguini però mi è colpito anche e soprattutto l'altro ovviamente il pinguino l'imperatore che poverino insieme poi vabbè anche alla sua compagna però lui parecchio tempo deve tenersi questo ovulo tra le zampe no? e poi si danno il cambio con la donna eccetera poi il rospo il rospo io ero ancora all'idea fantastica che il rospo insomma quando uno lo baciava poi diventava principe e invece poi scopro che ovviamente nella corsa per la riproduzione si fa portare da una femmina cioè si aggrappa si fa portare e qualche volta se ne affogano perché più di uno magari ecco detto questo io finisco dicendo che poi lei lo racconterà meglio di me che sono d'accordo un po' per questo tipo di saggistica che in qualche modo voglio dire vero romanzata che ecco però che innanzitutto ci fa crescere ovviamente in sapere in emozioni eccetera però io ecco me l'ha bruciata proprio questa considerazione Simona ci fa essere veramente più consapevoli che come questo habitat lo dobbiamo conservare questa natura così meravigliosa così soggetta a tante leggi che voglio dire imprescrutabili che ti fanno pensare a un diemurgo creatore veramente insomma che dobbiamo salvaguardarla bene la racconti lei grazie al circolo di Laccheria Allardi una cosa sola volevo dire infatti un libro che ci aiuta ad acquisire maggiore consapevolezza se ancora non ne abbiamo la nostra autrice è anche molto impegnata ha partecipato ad un Friday for future insomma comunque è molto attiva si c'è anche proprio un intero capitolo insomma l'ultimo che si chiama dove vanno le migrazioni in cui appunto racconto in realtà cosa stiamo facendo ai migratori spesso magari pensiamo sempre è solo la perdita di biodiversità non è soltanto quello è la perdita dei servizi ecosistemici quindi di tutti quei benefici che ci derivano dai dall'esistenza stessa di un ecosistema di determinati animali pensiamo banalmente se non arrivassero più gli uccelli in Europa a riprodursi dall'Africa ci sarebbero un sacco di parassiti delle piante in più un sacco di insetti in più idem se non ci fossero più pistrelli insomma ne abbiamo e ne abbiamo e abbiamo pochissimi anni per porre riparo noi ai disastri che stiamo facendo sì perché poi appunto ecco tra plastica inquinamento luminoso le strade che anche spesso ho citato ovviamente l'impatto più grande ce l'ha il cambiamento climatico e per quello diciamo dobbiamo un po' stringere i tempi parliamo io non so ci sono altre ecco siccome ci sono altre domande solo la storia dei sassolini che è magnifica ok e infatti ok no allora diciamo i pinguini di Adelia sono tra l'altro tenerissimi diciamo sono alti più o meno quanto un bimbetto sui 70 centimetri però si riproducono in estate sempre in Antartide sono tra le 5 specie di pinguini che si riproducono in Antartide perché ce ne sono molte di più spoiler non tutti nidificano in Antartide e come fanno diciamo a scegliersi in realtà sono coppie che poi rimangono diciamo per la vita però diciamo la scintilla tra virgolette a inizio nel momento in cui il maschio cerca questo sassolino devo dire che loro sono molto precisi e attenti nel costruire questo il sassolino è un dono per la fede viene dato in dono però diciamo spesso è stato paragonato all'anello di fidanzamento queste cose qui magari l'anello è un di più cioè appunto è un gioiello è un ornamento invece quel sassolino è fondamentale perché serve è una delle prime pietrine diciamo il primo mattoncino per costruire il nido che più o meno viene appunto costruito con 200 sassolini tutti diciamo di dimensione più o meno identica e niente insomma una volta che l'uovo viene deposto dentro viene covato lì c'è però appunto il problema appunto che racconto alla fine che proprio con il cambiamento climatico quando nevica la neve si scioglie molto presto e l'acqua rimane appunto diciamo intrappolata lì e purtroppo spesso le uova diciamo muoiono di freddo diciamo così però diciamo questa è la storia del sassolino e poi giusto per dire diciamo per rispondere a un'altra cosa che aveva chiesto la signora è che le balene si cantano insomma l'abbiamo scoperto dalla fine degli anni sessanta in poi soprattutto abbiamo scoperto che hanno dei dialetti quindi che diciamo la loro lingua è anche molto più simile anche gli uccelli hanno dei dialetti nei loro canti e quindi diciamo sono in qualche modo molto più simili a noi come metodo di comunicazione ma le sirene di Ulisse non sono balene bensì uccelli sono degli uccelli che abbiamo anche qui nel Mediterraneo ovviamente sono le berte maggiori sono anche loro diciamo berte maggiori nidificano lungo la costa nelle diciamo scogliere su pareti rocciose fanno un nido che in realtà ha un cunicolo nella roccia e hanno un canto diciamo che fanno di notte che diciamo no non è tanto diciamo melodioso in realtà è un canto che assomiglia al pianto di un bambino però appunto diciamo da tradizione in realtà sono loro le sirene ma che sono adesso scusami perché io vengo da un'esperienza diversa avendo fatto studi di filologia classica mi pare di ricordare che nell'Odissea si è detto che non sono pesci le sirene ma sono degli uccelli il mito è nato così poi si è passato ai Lamantini insomma ha fatto un po' di giri però ecco in realtà sono loro infatti e allora il circolo della biblioteca Flaminia biblioteca Flaminia del secondo municipio io non le pongo domande perché lei è una divulgatrice brava con il linguaggio dei grandi inviati e soddisfa il lettore questo invece è un'osservazione mi piace dire questo e perdonatemi devo leggere tre righe proprio sulle isole Sheckland meridionali dove arrivano un inverno in saltaroccia nidifica il sciuffo dorato che come dice il nome ha una capigliatura decisamente più folta e dal colore giallo più intenso questo è un linguaggio di una rivista di moda per noi per il genere umano è un parrucchiere parlerebbe così quindi io le domando lei o le dico lei con questo linguaggio contrasta lo specismo del quale siamo spesso accusati è nei suoi obiettivi? diciamo decisamente sì nel senso che esatto c'era proprio appunto la volontà di rendere leggibile godibile a a chiunque diciamo appunto anche a chi non aveva una formazione scientifica che fosse qualcosa anche di leggero tra l'altro era anche una richiesta proprio della casa editrice mi hanno dato un limite di battute e appunto diciamo già lì era per dire non scrivere una cosa che sia troppo diciamo ricca di dettagli di insomma che diventi un libro poi dopo di 500-600 pagine volevano qualcosa che potesse essere godibile semplice anche da da leggere e quindi era assolutamente nel merito anche la responsabile ti vuole fare una domanda allora in realtà ne ho tre ma sono velocissime giuro allora la prima è se in questi tuoi interessi c'è stata un'influenza da parte dei grandi documentari perché insomma nel tuo racconto ci ho visto molto la marcia dei pinguini eccetera insomma loro forse sono stati un po' precursori di questo modo di approcciare la natura in questo modo insomma molto molto racconto insomma e la seconda domanda è sulle cure parentali genitoriali eccetera io ho letto che la specie umana è quella che ha più bisogno di tempo per diventare autonoma infatti i cuccioli di uomo in teoria appunto diventano maggiorenni a 18 anni e invece le altre specie bastano addirittura a volte pochi giorni per essere svezzati completamente questa cosa si deve diciamo alla complessità dell'essere umano anche se il tuo libro mi fa pensare di no perché certe specie mi sembrano voglio dire addirittura più complesse in qualche modo di noi e terza e ultima cosa questo libro è un inno alla vita però è anche un libro che ci fa riflettere sulla morte sul fatto che c'è una tale abbondanza di vita sul pianeta Terra che quasi va sprecata a un certo punto tutti noi chi ha avuto un animale sa quanto dolore può portare la morte dell'animale domestico del cucciolo eccetera eppure ci rendiamo conto osservando la natura e le cose che tu scrivi che in realtà la morte è proprio un elemento assolutamente naturalissimo compresente nella vita diciamo insomma volevo la tua opinione scientifica su questo argomento grazie innanzitutto per le domande beh riguardo ai documentari sicuramente sì in qualche modo sicuramente sono state di ispirazione diciamo quelli che ho visto ma diciamo in generale come mentore di divulgazione scientifica in particolare naturalistica c'è sicuramente David Attenborough quindi il volto diciamo della BBC dei documentari naturalistici che insomma diciamo ancora oggi continua a fare diciamo sfornare documentari bellissimi e in parte appunto c'era la voglia di raccontare anche di far vedere che cosa stava succedendo perché ecco magari per me la forma di uno new o il granchio rosso dell'isola di Natale la conosco bene magari il lettore visto che tra l'altro è un libro che non ha immagini non ha immagini delle specie esatto ho cercato di farvi vedere anche con le parole perché non avendo delle immagini a disposizione in qualche modo dovevo evocare e quindi sì forse mi sono anche ispirata un po' forse consapevolmente un po' inconsapevolmente ai documentari e in generale anche ai racconti di fotografia naturalistica quindi alle immagini la seconda domanda era sul ok sì questo ma in realtà l'uomo sì e anche in realtà tutte le quelle che sono magari le specie più grandi immaginiamo balene elefanti eccetera hanno bisogno di cure parentali molto lunghe questo diciamo sicuramente deriva dall'essere più complesso che non significa più evoluto nel senso di migliore significa semplicemente che abbiamo un tempo di sviluppo ontogenetico si dice diverso abbiamo bisogno appunto di più anni per avere la piena autonomia forse anche per il tipo di cultura che abbiamo per diciamo le cose che dobbiamo imparare mentre magari ecco ad un uccellino nel momento in cui esce dal nido e sono passate due settimane solo è già adulto cioè ha già i 18 anni ecco ha già imparato tutto e già anche delle dimensioni da adulto cioè dopo cambierà il piumaggio ma le sue dimensioni restano quelle tant'è vero che noi possiamo inannellare anche al nido perché la zampa non cresce più di quello oppure ecco magari anche le tartarughe una volta che sono nate cresceranno ma hanno in qualche modo già tutte le formazioni necessarie per alimentarsi per diciamo nascondersi dai predatori per trovare il mare ecco forse quello che diciamo dobbiamo imparare più di tutto noi è il linguaggio che magari per esempio gli uccelli anche o le balene imparano in tempi molto più rapidi e in generale quella che è la nostra cultura oltre diciamo ovviamente c'è un periodo di ovvia auto insufficienza nostra ma ce n'è anche per tanti altri animali quasi tutti quanti i mammiferi oppure appunto pensiamo agli uccellini nel nido che nascono senza penne quindi nascono in plumi e poi dopo appunto devono hanno tutto un tempo di accudimento sono ciechi non potrebbero volare non potrebbero fare nient'altro e poi dicevi appunto un libro anche appunto che racconta ovviamente quella che tra virgolette è l'altra faccia della medaglia della vita cioè la morte perché appunto un po' come era nella storia dell'Ignu è diciamo tra virgolette quella che noi immaginiamo come la fine come si vede forse dall'Ignu non è la fine cioè nel senso su questo siamo fatti come dicevano di polvere di stelle che non è sbagliato diciamo in qualche modo perché gli elementi dell'universo quelli sono e in qualche modo torniamo a essere quello torniamo noi tornano tanti animali diciamo questo ritorno è in qualche modo fondamentale cioè uno dei grandi problemi che noi umani creiamo alla terra è che siamo troppi diciamo purtroppo o per fortuna invece la natura ha un meccanismo di autoregolazione fantastico perché se ci sono più erbiuri ci sono anche più predatori ma prima o poi diciamo questa come devo dire la portanza ecosistemica si chiama quindi il numero ecco di magari erbivori o di predatori che può sopportare quell'ecosistema ha comunque una fine quindi a un certo punto interverrà una malattia a debellarli e diciamo in questo modo tu riai sempre diciamo la stessa sì hai un ciclo e soprattutto hai la possibilità di diciamo di far vivere quell'ecosistema al meglio delle sue potenzialità noi diciamo siamo un po' fuori da questa da questa visuale spesso diciamo purtroppo diciamo abbiamo anche un'altra cultura di che cosa è la vita di che cosa è la morte ma è una cultura diciamo gli animali non ce l'hanno nel senso che fa parte della vita certo sicuramente ci sono anche delle attestate per alcuni mammiferi insomma più grandi delle manifestazioni di dolore per la per la morte di figli o magari ecco anche di amici di membri del gruppo però in qualche modo diciamo è necessaria ecco non possiamo essere tutti per sempre bene non so se siamo veramente in chiusura se c'è ancora una domanda rapidissima sì c'è allora Antonio lo presento all'autrice ma anche circolini di lettura che già avranno avuto modo di però in piedi Antonio è un volontario del servizio civile che lavora sul progetto leggere in circolo e quindi insieme ad altri tre colleghi tutti e quattro bravissimi visitano spesso i circoli di lettura e li assistono anche in questa attività del premio biblioteche sì ciao buongiorno e io volevo chiedere se magari possiamo concludere con un messaggio di speranza oppure no il cambiamento climatico mette a rischio tantissime specie viventi comprese noi e anche soprattutto le rotte degli animali migratori ci sono ovviamente tantissime associazioni progetti che intervengono per proteggere gli animali ma io mi chiedevo esistono progetti internazionali per proteggere invece proprio le rotte perché un animale stanziale si aiuta sul luogo un animale migratorio deve coinvolgere il luogo di arrivo il luogo di partenza la rotta come funziona insomma esatto uno dei motivi per cui il libro si chiama senza confini è questo perché nel libro ovviamente ci sono tantissimi animali che si spostano da uno stato all'altro da un continente all'altro da un emisfero all'altro e questo ci dovrebbe far ragionare ci sono non dei progetti ma teoricamente ci sono delle leggi vengono rispettate ne vengono diciamo esatto il problema è anche questo spesso magari le leggi internazionali che ci sono in materia di conservazione che sia delle balene o che sia degli uccelli migratori uno non vengono rispettate non è punito chi non le rispetta e soprattutto spesso non sono delle leggi vincolanti cioè tu stato non vieni magari multato oppure non so non hai un altro tipo di tra virgolette punizione se non rispetti quell'accordo e invece diciamo per proteggere le migrazioni e i migratori come dicevi tu non è qualcosa che si può fare sul posto bisogna proteggere sicuramente il luogo di svernamento e il luogo di riproduttivo ma bisogna anche proteggere quelli che sono i luoghi di stopover si chiamano quindi appunto i posti dove si fermano per sostare che siano magari le zone di alimentazione per le balene piuttosto che le piccole isole per gli uccelli spesso queste vengono vengono fatte magari delle riserve pensiamo a tutte le zone umide che sono riserve qui in Italia però anche qui spesso non basta perché se in Italia la zona umida non lo so che c'è qui a Ostia vicino Roma è una zona protetta della Lipu certo è protetta tutto l'anno fortunatamente ci passano ovviamente tantissimi migratori sia in inverno che in primavera però a Malta me li sparano è ovvio che diciamo io Lipu o diciamo chi che sia ci posso mettere tutto l'impegno possibile però ci vogliono degli accordi internazionali che vengano rispettati bene io direi che a questo punto ci salutiamo poi lascio la parola anche a Rosarita tanto volevo ringraziare i nostri circoli di lettura che no? hanno letto il libro grazie per essere stato qui poi fino alla fine per le domande numerosissime a questa presentazione volevo ricordare a tutti che il 5 dicembre avremo l'incontro in fiera alla sala luna della nuvola alle 12 e 30 speriamo che la nostra Francesca non registrare già Maria sia tra i finalisti del premio ovviamente io faccio il tifo per lei mi farebbe volevo dire solo una cosa ancora poi lascio la parola a Rosarita mi farebbe molto piacere che Francesca partecipassse anche alle attività della fiera perché come potete immaginare il tema dell'ambiente è molto importante per le biblioteche di Roma io non posso anticipare nulla ma ci saranno delle mostre molto belle e si ragionerà molto sul tema dell'ambiente quindi sarebbe veramente bello se Francesca potesse partecipare a una nostra attività io ringrazio tutti lascio la parola a Rosarita per i saluti ufficiali e ringrazio Francesca allora siamo solo appunto ai saluti finali vi volevo ricordare come dicevo in inizio che giovedì prossimo invece ci vediamo per Scrivi sempre a mezzanotte altro libro molto bello anche molto complesso insomma quindi il vostro apporto sarà molto importante perché poi i libri sono di chi li legge fondamentalmente quindi grazie per essere intervenuti grazie alle nostre ospiti e grazie grazie